L'azienda agricola Botti nasce nel 1870 a Capriano del Colle. Gli otto ettari di vigneti della famiglia si trovano nel parco del Montenetto. L'azienda Botti fa orgogliosamente parte dell'associazione Strada del Vino e dei Colli Longobardi da quando essa fu fondata. In occasione del ventennale dell'associazione, Marco Botti e il suo collaboratore Damiano Massetti ci raccontano la storia dell'azienda. Ci troviamo adesso nei nostri vigneti, qua a Capriano del Colle sul Montenetto, nel parco regionale del Montenetto. Abbiamo un'estensione di vigneto di quasi otto ettari dove vengono coltivate le varietà di Trebbiano di Lugana, Pinot e Chardonnay per il bianco Capriano del Colle e San Giovese, Marzemino e Merlot per quanto riguarda il rosso. Abbiamo vigneti comunque di ultima generazione, abbiamo ancora dei vigneti comunque legati alla tradizione quindi al cordone Speronato e Silvò che li manteniamo per vedere appunto l'evoluzione dei vigneti. Ci danno anche delle soddisfazioni nonostante la vecchiazza di questi vigneti, danno un'uva ancora molto rigogliosa, molto valida per i nostri vini di cui andiamo molto orgogliosi. Facciamo parte della strada del Vino Colle dei Longobardi e ne andiamo anche orgogliosi di questo. Da quando è stata fondata, quindi 20 anni fa, quando ci fu appunto la prima Presidente Maria Bigogno, abbiamo avuto tantissima soddisfazione di essere presenti in questa strada perché negli anni ci ha dato tanta visibilità e tanto prestigio. Nella nostra è un'azienda a conduzione familiare, siamo io e mio fratello, io che curo la parte commerciale e mio fratello che si occupa della cantina. Abbiamo un validissimo collaboratore che è Damiano Massetti che oltre a fare il cantiniere ha anche laureato in enologia e quindi ci dà un notevole supporto sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista proprio tecnico. Siamo qui nella parte dedicata alle vasche di acciaio della nostra cantina in cui noi vinifichiamo i nostri vini. Per quanto riguarda la vinificazione, essa viene in vasche di acciaio a temperatura controllata, dove arrivano dopo un processo appunto di pressatura che avviene all'esterno della nostra cantina. La raccolta delle uve viene fatta esclusivamente a mano da personale qualificato e in cassette di plastica di un peso che va dai 20 ai 25 kg. Le uve che arrivano in cantina vengono poi appunto vinificate in queste vasche e vi rimangono fino alla fase appunto di affinamento che andremo a vedere poi. Qui siamo nella parte diciamo più fresca della nostra cantina, come si può vedere ci sono delle vasche in cemento e a proposito di questo diciamo che stanno tornando di moda ma noi ci abbiamo sempre creduto perché appunto l'escursione termica che subisce il vino è inferiore appunto a una vasca in acciaio. Quindi diciamo che ci dà molte soddisfazioni appunto l'affinamento in cemento. Per quanto riguarda invece i nostri diciamo fiori all'occhiello, i nostri vini più preziosi, l'affinamento avviene all'interno di barrique da tre quintali o da cinque quintali e qui vi ritroviamo in affinamento per un anno il rosso riserva settembre 1841 e il nostro bianco che sono solo due anni che lo facciamo ma sul quale puntiamo molto si chiama Damante è un 100% chardonnay e fa anche lui un anno di barrique. Questo è il nostro prodotto di punta, il nostro rosso riserva dove in etichetta è ben impresso il marchio che contraddistingue la nostra azienda. Mi piace molto giocare su questa cosa perché quel marchio là quando abbiamo qualche visita in cantina mi chiedono sempre ci gioco e dico adesso chi indovina cosa significa gli regalo una bottiglia. Perché è questo? Perché sta a significare l'origine della nostra attività. Qua praticamente è dove è nato tutto in questo periodo, ossia questo è il calco esatto che c'era sul solaio della cascina dove abbiamo i vigneti. Il mio bisnonno fece costruire questa cascina e successivamente piantò la vigna, quindi è da lì che cominciò la nostra avventura. Siccome una volta questo calco veniva fatto su una pietra quadrata, i mesi lunghi uscivano dal quadrato e quindi venivano abbreviati, ossia settembre, ottobre, novembre e dicembre erano abbreviati in settebre, ottobre, novebre e diecibre. Quindi in questo caso è settembre 1841, cioè la data esatta di origine del nostro percorso vitivinicolo.